Mi chiamo Maria Carmeliti e sono una studentessa del quinto anno del corso abilitante alla professione di restauratore dell'Accademia di Belle Arte di Verona. Sto svolgendo un tirocinio formativo presso la Galleria d'Arte Moderna Achilleforti e ho l'occasione di restaurare, sotto la guida e l'occhio vigile della docente e restauratrice delle trazze, la scultura in gesso raffigurante Beatrice realizzata da Uo Zanuni. La particolarità di questa esperienza è che il cantiere di restauro è stato allestito all'interno delle sale espositive della Galleria, in modo che i visitatori possano seguire le varie fasi operative. Inizialmente, sapere di lavorare sotto gli occhi di tante persone ha messo in soggezione sia me che... ...tro abbiamo cominciato ad apprezzare la curiosità dei visitatori, che si avvicinavano al cantiere talvolta ponendoci delle interessanti domande. Prima del restauro, l'opera appariva in pessimo stato conservativo, in quanto era mutile della testa e del braccio sinistro. Inoltre, il cospicuo deposito superficiale, specialmente sul retro, impediva di apprezzare i dettagli e le volumetrie realizzate dall'artista. Erano invece evidenti le scritte e gli imbrattamenti vandalici presenti su tutta la superficie. Il gesso, materiale di cui è costituita l'opera in oggetto, è utilizzato fin dall'antichità. Data la sua disponibilità in natura, perché è economico, leggero e non presenta fenomeni di contrazione durante le fasi di asciugatura, mantenendo così inalterati i volumi delle sculture nel tempo. Altresì, la fragilità e la sensibilità all'acqua del gesso sono fattori che ne rendono difficoltosa la conservazione. Urche accidentali e variazioni di umidità sono sufficienti a comprometterne la stabilità nel tempo. Queste caratteristiche rendono complesse anche le operazioni di pulitura, in quanto l'igroscopicità e l'assolubilità di questo sale richiedono limitati apporti d'acqua, perché potrebbero comprometterne le proprietà meccaniche infragilendolo. Quindi, gli interventi di restauro hanno previsto accurate operazioni di dry cleaning, seguiti da una pulitura a base acquosa addizionata al lager, un gelificante naturale completamente atossico, col fine di mantenere l'acqua in superficie, evitando di compromettere le proprietà meccaniche del gesso. Seguire interamente i processi di restauro, di documentazione fotografica e grafica, anche realizzando modelli fotogrammetrici che ben descrivono l'aspetto dell'opera prima, durante e dopo i restauri, è stata un'esperienza utile e stimolante, che mi ha dato una possibilità di crescimento personale. Grazie! Grazie! Grazie a tutti!